Presentazione ufficiale a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza regionale del Gudi Kassaidi, la notte del Canto dei Profeti, in programma a Livorno per il 22 settembre al Palamo Di. È la festa più importante del Murid, la principale delle tre confraternite islamiche del Senegal, che si rifà alla predicazione fra 8 e 900 di Hamadou Bamba. Una notte e un giorno in cui uomini e donne e bambini, per lo più senegalesi ma non solo, si ritrovano per recitare, cantare e ascoltare componimenti poetici in lingua araba. L'evento si tiene ogni anno in una città diversa, l'anno scorso a Barcellona, richiamando da tutto il mondo imam, guide spirituali e persone comuni. A Livorno è previsto l'arrivo di almeno 10.000 persone. Il momento non è casuale, perché è un momento in cui abbiamo bisogno di confronto, abbiamo bisogno di dialogo, di confrontarsi, ma farlo come la religione a volte si suggerisce, cioè usando i mezzi pacifici che noi abbiamo, in primis il cervello e poi nel rispetto reciproco, ovviamente, delle parti. In Toscana la comunità senegalese conta 12.000 persone. Durante il Gudi Kasseidi, organizzato dal Casto e il coordinamento delle associazioni senegalesi della Toscana, le poesie saranno cantate in arabo, ma verranno distribuite al pubblico anche traduzioni in italiano. È importante in questo momento, perché vanno ribaditi alcuni principi che stanno alla base della nostra Costituzione e della nostra democrazia, ma questi sono valori che vanno sempre, continuamente ripetuti.